Buongiorno, questo video per illustrarvi un'operazione di trading che ho appena compiuto, effettuato sul future del mercato italiano, il Fuzzimib, questa mattina 29 novembre, mercoledì, operazione long intraday effettuata grazie all'indicatore Confluenza, che è un indicatore proprietario di mia creazione, ma disponibile in abbonamento anche a chi ne facesse richiesta, le informazioni si trovano sul mio sito internet www.strategieditrading.it. L'indicatore Confluenza viene posizionato nella parte bassa di un grafico ed è costituito da una serie di histogrammi verticali che possono assumere tre tipi di colorazione, una verde per indicare posizioni long, una che qui non si vede eventualmente posizione short con il colore rosso e infine a modi semaforo una terza colorazione che è giallo per indicare posizioni flat, assenza di posizioni o meglio chiusura della precedente posizione long o short che fosse. Cosa è successo questa mattina? È successo che già in apertura del cash alle ore 9 la spinta rialzista del mercato ha fatto sì che l'indicatore Confluenza, che prima era giallo, è diventato verde. Quindi mi suggerisce di aprire una posizione rialzista, cosa che vado subito a fare per conferma in apertura della candela successiva sul livello 29.495. Da quel momento in effetti il mercato continua a salire, lo fa in modo lineare, lo fa in modo costante, io rimango sempre in posizione perché l'indicatore Confluenza si continua a confermare verde di 5 minuti in 5 minuti, questo è il time frame che ho utilizzato con questa strategia, questo fino alle ore 10.40 quando l'indicatore Confluenza diventa giallo, quindi mi dice e suggerisce di uscire dalla posizione long e rialzista, cosa che vado subito a fare per conferma in apertura della candela successiva sul livello 29.645. Quindi un'operazione fatta questa mattina in tre day long che è durata un'ora e 40 da 4.95 a 6.45 e mi ha permesso di portare a casa un ottimo risultato di 150 punti di FIB che corrispondono a 750 euro, ovviamente lordi, dal capital gain e dalle commissioni. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e come al solito vi auguro buon trading.